Si può dare di più perché dentro di noi si può dare di più se sembra essere eroi. Come pare non so, non lo sai neanche tu, ma dicendo se può dare di più. Anche quest'anno la Sagra di San Giacomo si è svolta nel migliore dei modi. Dobbiamo essere veramente contenti dello svolgimento di questa Sagra, in quanto abbiamo avuto una partecipazione che ci ha sorpreso e rallegrato perché c'è stata una risposta veramente molto bella. Anche quest'anno il record di partecipazione? Sì, anche quest'anno come tutti gli anni aumentiamo un pochettino la preparazione delle pietanze e anche quest'anno abbiamo fatto tutto zaurito, quindi siamo veramente soddisfatti. Come funziona la collaborazione tra gli anziani del gruppo e i più giovani? Abbiamo la fortuna di avere da un po' di anni la collaborazione dei giovani della parrocchia, che sono stati fondamentali per la crescita del nostro gruppo, in quanto stiamo facendo veramente un servizio, un servizio in queste Sagre, veramente che non avremmo mai più potuto pensare di farlo solamente con le nostre forze del vecchio gruppo. Quindi siamo veramente contenti di questa nuova possibilità e credo che sia utile anche per i giovani avere un po' di esperienza degli anziani e quindi che sia una collaborazione utile per tutte le due età. Il prossimo evento in programma organizzato dal gruppo? Sarà la Castagnata che verrà alla fine di ottobre, sempre qui in Piazzetta di Rupinaro. Da un po' di anni è stato collaudato l'esperimento di cuocere sulla piazzetta e verrà una cosa molto bella, anche coreografica, e quindi anche quello è un evento che è in miglioramento. L'importanza della Sagra di San Giacomo per la parrocchia? È un momento questo di condivisione, di fraternità, di amicizia fra i nostri parrocchiani e coloro che sono qua anche in vacanza perché capita in questo periodo ed è un momento nel quale in modo particolare con il gruppo degli uomini di Ruinà e i giovani della parrocchia c'è questa collaborazione strettissima che negli anni è molto cresciuta ed è diventata l'occasione di amicizia, di un passaggio di esperienze, di una ricchezza anche di quello che è al servizio al servizio di quelli che sono qua per la Sagra. Poi sappiamo che il ricavato della Sagra della Caponada, di San Giacomo, è devoluto in beneficenza quindi è comunque un gesto di carità. E allora questo mi sembra molto bello perché negli anni c'è stato questo crescere in una collaborazione sempre più fitta e direi oggi fittissima, come avete visto dalle immagini e che ha portato dei frutti evidenti tra le persone, mi sembra anche un segno di bellezza per coloro che vengono. Moltissimi giovani di Lopinaro che si mobilitano, come vedi questa cosa? Anche adesso, poco fa, qualcuno mi diceva che è bello vedere i ragazzi che si danno così da fare invece che essere sul muretto in giro a perdere tempo. Io credo che quando ci sia l'opportunità di fare qualcosa di buono, di valore, i giovani siano sempre pronti. Forse quello che manca a volte è il dar loro fiducia e anche magari motivarli perché poi le risorse le hanno, d'avanzo le hanno. E quello che mi sta facendo l'intervista è uno di quelli che ha lavorato alla Sagra perché adesso giro io e Giacomo, cosa hai fatto tu questa sera? Io ho assemblato le meringate, le ho tagliate e distribuite nei piatti. E per te l'esperienza della Caponata cosa rappresenta? È una bellissima esperienza di servizio in cui riuscire a mettersi a disposizione e comunque lasciare qualcosa alle persone, sia a quelle che mangiano che a quelle che partecipano. Quindi ve l'ha detto lui e credo che questo valga per tutti. È bello anche il fatto che Nasca insieme, noi ci siamo visti in questi mesi per prepararlo insieme con gli Ami del Ruinà, poi immediatamente prima e poi tutte le sere la verifica è sempre un'occasione per scambiarci anche l'esperienza della giornata. Siamo un po' stanchi, devo dire dopo tre giorni, però contenti. Una battuta su Lupinaro Sport? Lupinaro Sport sta crescendo e la cosa che noto molto bella è il fatto che sta crescendo una rete di collaborazioni con Maria Luigia, con il villaggio del ragazzo, qualcosa con le giannelline, cioè sta diventando questa realtà che si è aperta anche al settore giovanile, un mondo che mette in comunicazione tante esperienze che condividono lo stesso spirito, uno spirito nel quale i ragazzi sono al primo posto, c'è al primo posto un insieme di valori che sono legati al mondo dello sport e che pescano dal Vangelo e che vanno poi ad essere come un segno di freschezza e di novità in un mondo del calcio che sicuramente porta con sé anche dei valori, ma non sempre li manifesti. Spiegaci qual è il tuo compito. Il mio compito è di tagliare le berengate, metterle nei materiali, in un certo momento di plastica e poi distribuirle a chi piace il dolce. Diciamo che quest'anno ne è andato tantissime le berengate, anche perché è andato un semifreddo che piace a un certo punto nei periodi estivi, poi anche come gruppo Pino Solari che siamo a un certo momento, io sono uno dei più vecchi rimasti e però abbiamo i giovani che ci stanno dando una mano, specialmente in ogni campo di lavoro, sia per la berengata, per le patatine fritte, per tutti i vari materiali. Durante l'anno in un certo momento sono anche nel gruppo, proprio per iniziare a fare un passo, come succede in tutti i campi, che noi diventiamo vecchi e loro devono prendere il nostro posto per continuare il materiale, cioè tutto quello che deve essere fatto è disegnare sempre il gruppo Pino Solari, uomini di Ruinà, sempre vivo. È stato difficile trovare abbastanza persone per svolgere tutti i compiti? No, no, cioè la volontà dei ragazzi c'è e anche quella di trovare amici che vengono, eccetera, quindi noi sono stati problemi assolutamente. Hai notato un buono spirito di servizio tra i ragazzi? Assolutamente, una serietà, un'onestà nel fare le cose, la cura, impeccabili. C'è stata una buona collaborazione con i più anziani del gruppo? Sì, sì, ci sono stati ovviamente anche dei momenti divertenti ed è un valore aggiunto, proprio quello di continuare la tradizione di questa sagra. Faccio un esempio di un momento divertente. Eh, insomma, delle sbalataggini che comunque sia nostre che loro, poi alla fine si tramutano i momenti che ti ricordi. Quanto tempo è che svolgi il servizio alla sagra? Eh, ormai saranno cinque o sei anni, sì, sì. Quando ho ancora la sagra era all'Artigianelli, che in confronto ad oggi si parla forse di un quinto della dimensione, della portata di gente. Credi che la partecipazione di tanti ragazzi sia un valore aggiunto per i clienti? Sì, assolutamente, anche perché vedere gente giovane così che si impegna, fa comunità e si può apprezzare anche proprio l'impegno che ci mettono i ragazzi nel portare da mangiare, eccetera. Oltre alla caponata partecipi ad altre attività del gruppo Pino Solari? Facciamo delle cene, dove ogni quattro mesi cuciniamo anche noi, sono quattro gruppi che si alternano, e anche quella è una bella esperienza appunto per mantenere la comunità della parrocchia e stare insieme. Puoi spiegarci in breve in cosa consiste il tuo ruolo? Consiste praticamente che noi andiamo al nostro tavolo assegnato e chiediamo lo scontrino al cliente, chiediamo i tipi di acqua, vino, testaroli, queste cose qui, e poi andiamo a prendere i vari cibi e li portiamo. Avevi mai fatto la cameriera in precedenza? No. E hai trovato delle difficoltà? All'inizio, però adesso sono riuscita a gestirla meglio. Com'è la squadra delle cameriere e dei camerieri? Siete affiatati? Siamo molto affiatati e ci diamo tutti una mano per quanto possiamo. Ho trovato molta complicità fra noi camerieri e di questo ne sono molto felice. È stato difficile gestire la grande affluenza di persone? Ieri non c'erano tanta gente, quindi di meno, però oggi è arrivata una tavolata molto grande, quindi è stato un po' complicato, però poi siamo riusciti a gestirlo. Com'è il rapporto con gli altri camerieri? Litigate mai? Ma no, si cerca di collaborare tra di noi e appunto aiutarci, magari se qualcuno è impegnato in un ordine e magari ha da fare, se un cameriere è più libero lo aiuta. Ripeterai l'esperienza di cameriera alla Sagra al prossimo anno? Sì, perché è stata una bellissima esperienza e vorrei ripeterla. Qui è arrivata una nuova cameriera? Elena. Elena, com'è stato lavorare oggi alla Sagra? Oggi molto impegnativo, solitamente è sempre impegnativo, però quest'anno ho trovato più facile forse lavorare, perché c'era una squadra migliore secondo me, e poi perché ci siamo organizzati meglio alla fine. Ogni sera dopo aver servito ci vedevamo per una verifica finale, per migliorare e per quindi migliorarci a nostra volta. Sono tanti anni che fai la cameriera, come mai? Più o meno quattro anni, cinque. No, mi piace, anche se è un evento che comunque c'è soltanto una volta all'anno, sono tre serate, però è sempre un'esperienza positiva per me, anche perché si riesce a fare amicizie nuove, si riesce a fare comunque anche delle risate comunque. Tu Cecilia è la prima volta, come mai ti hanno convinta a venire? Mi hanno convinta perché a me piace aiutare, mettermi al servizio, e poi ero felice di condividere questa esperienza con nuove persone, ed è stata appunto un'opportunità per conoscere nuovi amici. E' ormai quasi l'ottavo anno che vengo a dare una mano qui, è sempre un divertimento, è un divertimento per noi vedere comunque la gente che viene sempre più numerosa perché ci fa buona pubblicità e veniamo noi, con molto piacere noi giovani, a dare una mano. Ricordiamo che siete volontari, l'impegno comunque è di servire la Sagra quando inizia e quando finisce. Allora, di solito si inizia a preparare addirittura con l'organizzazione anche un mese prima. Poi noi attivamente come camerieri, portantini e tutto, veniamo addirittura alcuni la mattina e altri il primo pomeriggio. Così è in modo che alle 7 siamo già attivi e pronti ad iniziare. Come funziona la foto con i pianziani? All'inizio ero un po' scettico, poi mi sono ricreduto ed è veramente un bel mix. C'è la loro esperienza, il nostro entusiasmo e siamo veramente una coppia vincente. Tu giochi anche nel dubbino allo sport? Sì, ci ho giocato per tre anni e è un'esperienza molto bella. Quest'anno ho deciso di prendermi una pausa e spero farò sempre il tifo per loro comunque. E sempre il cameriere della Sagra? Sì, sì, sempre, sempre. Io prendo, quando le persone si siedono ai tavoli, prendo loro lo scontrino, mi faccio chiedere le bibite come la vogliono e poi prendo i primi, i secondi e cerco di accontentare tutti. Ci sono state molte persone alla Sagra in queste tre sede? Sì, mi sembra rispetto all'anno scorso decisamente di più, soprattutto il venerdì che in genere è il giorno in cui c'è un po' meno gente. Siamo subito partiti con il pienone, diciamo, sì, c'era parecchia gente. È difficile gestire l'affluenza ai tavoli o comunque c'è un buon numero di camerieri? C'è un buon numero di camerieri, durante la sera poi, soprattutto alla fine della giornata, ci incontriamo per vedere quali sono stati i punti di forza e i punti deboli e cerchiamo di migliorare e sicuramente oggi è stato tutto molto più scorrevole e è fluido tutto molto meglio. Fai altre attività in parrocchia oltre a servire alla Sagra? Ci sono i campi parrocchiali, ci sono il centro estivo e ci sono anche delle cene la sera che gli uomini fanno, so che mio padre partecipa e partecipiamo molto volentieri. Sì, ecco, sono tanti anni ormai che si fa questa manifestazione, appunto della Caponada, collaboriamo molti ragazzi giovani con gli anziani, tra virgolette, della nostra parrocchia e pian piano appunto ci tramandano questa portata che ormai sta diventando sempre più popolare. E praticamente sono gallette di pane duro con aceto, vino, cipolla, tonno, insomma un piatto fresco e estivo che può piacere a tutti. Ecco, sono molti ingredienti insieme che vanno bene a tutti, questo è l'importante. Ci divertiamo tutti insieme, è come una catena di montaggio lassù anche ai testaroli, ai secondi, le salsicce, patatine, facciamo un po' di tutto. Al bar siamo un bel gruppo unito e l'importante è questo, ecco. Quante Caponade avete fatto in tre sede? Abbiamo fatto il record dell'anno scorso, eravamo sui mille e quest'anno se non erro abbiamo toccato i mille e seicento. Ora, ovviamente ne è avanzata qualcuna, abbiamo fatto un po' di più meglio che un po' di meno, però è un gran bel numero, un terzo in più dell'anno scorso. Tu giochi anche nel dubbino allo spot? Sì, nella Juniores e niente, quello si vedrà l'anno prossimo, speriamo di fare dei bei risultati anche lì. Anche quello è un progetto che sta andando avanti, è molto bello, ci divertiamo, ci alleniamo e giochiamo se si vince meglio, se no va bene lo stesso. Noi, praticamente queste tre sere, aspettavamo gli ordini dei ragazzi, sia birre, lattine di bibite, acqua, e quando i ragazzi venivano a prenderle se le caricavano loro sui loro vassoi e le portavano ai tavoli. E siamo qua aperti anche dopo le casse per favorire il lavoro anche dei ragazzi. È difficile gestire tutta la richiesta o siete comunque una squadra affiatata? No, in tre persone, il venerdì di sicuro riusciamo a regolarci, magari il sabato e la domenica ci serve una persona in più, non tanto per il servizio quanto per caricare i frighi, per cercare di avere la roba sempre fresca a disposizione. Poi per il resto invece i ragazzi sono efficienti, basta che rispettino la fila e riesce tutto tranquillamente. Ci sono difficoltà nella collaborazione con i membri più anziani? No, no, anche perché siamo sempre gli stessi, siamo io e un altro ragazzo e l'unico membri anziano comunque c'è sempre, è lo solito, è tutti gli anni, quindi c'è affiatamento nella squadra. Quest'anno ci sono state maggiori consumazioni rispetto agli anni scorsi? Ma i dati delle case ci hanno detto che il venerdì, nonostante il caldo, c'è stata un'affluenza leggermente minore rispetto all'anno scorso, ma di sicuro il sabato e la domenica, soprattutto questa sera, abbiamo recuperato. Ho recuperato. 57esima Sagra del Bagnon, abbiamo il nostro presidente Franco Po che da tanti anni si occupa di questa associazione, Presidente. Franco, qualche novità, riuscite a trovare sempre qualche novità ogni anno? Ma sì, certamente, intanto abbiamo recuperato diversi giovani e questo ci fa piacere perché il Bagnon ha bisogno anche di questo, bisogna che noi facciamo un passo indietro e i giovani fanno uno avanti. Abbiamo delle novità nel senso che intanto nella zona è nata questa industria giovane per la sfilettatura del pesce povero, pesce azzurro, ma anche per la conservazione, il marinato del tono della palamita. Sono novità queste che, è inutile dirlo, in Liguria non ce ne sono. Questo è il primo esperimento, una macchina che viene dall'oltreoceano, una macchina particolare. E questi sono amici del Bagnon e noi facciamo naturalmente, ci danno un prodotto da presentare che è una novità. L'altra novità è che le acciughe sono freschissime, ma non è una novità perché le pescano, questa notte le ha pescate la lampara, Salvatore Padre le ha pescate a Buonasola. E poi il fatto che il Bagnon rimane è una delle poche feste completamente gratis perché grazie al Comune, alla Regione e anche ad altri amici riusciamo a mantenere questa situazione. Intanto Franca abbiamo visto tutti questi piatti già pronti per l'uso. E questa è proprio la novità, fino all'anno scorso non pensavamo si potesse fare a livello commerciale. Questi giovani di Casarza Ligure continuano a produrre come novità questo pesce azzurro e sta andando molto forte, anche la palamita e altri prodotti. Allora ti lasciamo a coordinare tutto questo gruppo, insomma la cucina è sempre numerosa, la vostra divisa ormai si conosce, tu dirai, in tutto il mondo. Sì, sì, naturalmente, io voglio dire questo, si è cercato di aumentare la qualità soprattutto, cioè molti sono pensionati, vengono da un'esperienza di navi, altri di fincantieri. Ebbene, non è stato facile perché oggi abbiamo raggiunto un grado anche di qualità nel servizio perché poi noi non siamo portati a fare questa iniziativa, però vedo proprio che la gente risponde perché i prodotti sono genuini e quindi soprattutto i colori, la genuinità dei prodotti. Per chiudere, Franco, il vostro pensiero è anche solidale, nel senso che riuscite a recuperare qualcosa da dare ai beneficenti. Su questo è una cosa che ci contiamo, questa volta daremo una mano alla Croce Rossa di Riva Trigoso, all'opera di Don Nando Negri, alla messa dei poveri di Sesti Levante. E poi la cosa più bella sono i bambini, abbiamo non solo Chernobyl, ma l'anno scorso abbiamo avuto questa esperienza straordinaria con i bambini del Sarawi, che hanno ovviamente diverse anche problematiche. Quella è stata la punta di Diamante. Noi quest'anno chiediamo di poterlo ripetere perché questi bambini ci hanno dato una gioia infinita. Allora, siete pronti? Sì, sì, altro che se siamo pronti. Sì, sì, siamo pronti per oggi a mezzogiorno e pronti per stasera, per la Sagra. Perché stasera, insomma. Stasera, lo so, quello duro è stasera. Sì, sì. E cosa dice qua questo bel... Spero, speriamo che venga tanta gente, le acciughe sono buonissime, belle fresche, pescate davanti a Riva Trigoso. Speriamo che... Sono proprio nostrane, allora. Proprio nostrane, rivale, diciamo rivale, ma... Qualcuno sarà anche dei dintorni. Dei dintorni anche, naturalmente, perché... Dal Lavagnese al Monte Rosso. Perché i pescherecci sono diversi, eh. Qua adesso a che punto siete come cucina? Noi siamo a posto, aspettiamo gli ospiti, aspettiamo gli ospiti. A chi arriva il via? Da Franco Po. Dal Presidente. Dal Presidente Franco Po, sì, sì. Secondo gli ospiti. Va bene, allora buona cucina. Grazie, grazie, grazie. Come si chiama questa signora? Io mi chiamo Maria. Sempre Maria, eh? Non ha cambiato nome in questi anni? Non ho cambiato per niente, no, no, no. Il lavoro l'ha cambiato? Per niente. Niente? Sto facendo? Sto facendo l'antipasto. Ah, qua è proprio... L'antipasto proprio fatto a regola d'aria. Dell'Itte. Dell'Itte, proprio. Quest'anno sì. Ma quanto costerebbe in un ristorante un antipasto così? Eh, penso che costerebbe caruccio. Caruccio, eh? Caruccio, sì. Maria, insomma, quanti piatti avete preparato? Siete sempre pronti qua una volta all'anno? Siete sempre pronti. Sì, poi se ci teniamo da parte un po' di roba, se ne manca qualcuno, l'aggiungiamo. Eh sì, bisogna. Siamo previdenti noi, eh? Va bene, allora buon lavoro, eh Maria. Grazie. Qua abbiamo un imprenditore che cura il pesce, è un rappresentante delle imprese. Possiamo fare un bilancio di quest'anno, di come sta andando, prendendo spunto di questa festa? Ma, poi il bilancio lo devono fare la parte delle imprese sicuramente, dal punto di vista, diciamo, di chi cerca di sostenere, rappresentare comunque quello che è il prodotto di Liguria, chiaramente qui siamo al Bagnon e siamo di fronte alla manifestazione clou del pesce azzurro, che è il prodotto principe per quanto riguarda la nostra regione. E chiaramente noi abbiamo proprio la necessità, e queste sono le manifestazioni che in effetti contano, per far capire qual è i prodotti del nostro territorio, di valorizzare i nostri prodotti, oggi che è un mercato globale. Questo è un mare, è una regione che comunque ha una sua storia, una sua cultura, noi peschiamo con la lampara e su questo comunque puntiamo sempre sul fatto della qualità. Naturalmente parliamo di acciughe. In questo caso parliamo di acciughe, parliamo di pesce azzurro, che comunque ha una ricchezza anche nei temi nutrizionali. Fare impresa oggi in questo campo, cosa significa? Sicuramente ci troviamo di fronte a diverse difficoltà, purtroppo quest'anno la stagione è stata abbastanza vara per quanto riguarda l'acciuga, abbiamo degli esemplari di dimensioni abbastanza ridotte, quindi non adatte alla salagione. Quindi noi ci siamo adoperati per lavorare l'acciuga, sempre dal Mar Liguri in un altro modo, quindi facciamo acciughe marinate, che è un prodotto che abbiamo lanciato quest'anno e sta andando per la maggiore. Sempre per dare forza ai pescatori dei nostri paesi. Ecco, spesso a volte le croniche vengono alla ribalta, i fatti di difficoltà ad andare avanti eccetera, com'è il polso di questi giorni? Ma sicuramente anche questa notte abbiamo avuto una burasca improvvisa per i pescatori, ci sono state delle difficoltà, infatti qualche barca non ha pescato ed è stato difficile reperire anche le acciughe per questa sagra. Però devo dire che nel complesso possiamo ritenerci fortunati di avere un mare che per fortuna ci dà ancora parecchio prodotto per poter lavorare. Bene, in conclusione quante imprese nel nostro comprensorio ci sono? Diciamo imprese a 360 gradi perché chi si occupa di pesce azzurro, chi si occupa di gamberi, di strasci, di piccola pesca, questo è un territorio che ha circa un centinaio di imbarcazioni mettendo da camogli fino ad arrivare qua ai confini con Moneglia, di tutte le parti. Questa, la zona di Sestri è sicuramente un posto per il pesce azzurro conosciuto ed è anche un punto di sbarco di altre marinerie, pertanto anche le imprese su questo si stanno dedicando proprio per valorizzare. Perché il vero problema è un fatto di globalizzazione, qua bisogna far conoscere com'è il prodotto, qual è il nostro prodotto e molto spesso abbiamo proprio anche una carenza di imprese di trasformazione. Noi vogliamo, adesso ci sono dei fondi comunitari proprio per spingere a valorizzare perché come diciamo in parte delle imprese i costi non li abbatterai mai, puoi solo puntare sui ricavi, ma questo vuol dire avere qualità perché se no non riesci a fare imprese. Una manifestazione che unisce? Beh, certamente, è una manifestazione che unisce e valorizza il prodotto locale, vediamo qui questa bellissima iniziativa che è anni e anni che viene portato avanti e bisogna valorizzarla sempre di più, soprattutto perché fa scoprire il nostro pesce azzurro, il nostro pesce che è l'acciuga in particolare, l'acciuga è la galletta, ma in particolare noi parliamo di mare, quindi col diretti si occupa anche del comparto dell'agricoltura del mare, quindi della pesca. E questo è un presidio molto importante per il nostro territorio, per far conoscere soprattutto ai turisti che magari non conoscono il nostro pescato, il pescato del Mar Ligure. Un Mar Ligure che si chiama insomma il pesce povero, dicevo prima, però insomma è molto buono. Beh, il pesce povero sicuramente, infatti veniva utilizzato anticamente sulle imbarcazioni e adesso invece viene valorizzato sul nostro territorio. Lo facciamo assaggiare ai nostri, a tantissimi turisti, vediamo qua siamo sulla spiaggia di Riva, ai tantissimi turisti presenti, ma anche alle famiglie e ai giovani che magari non lo conoscono, ai bambini per essere il futuro, un motore di ricerca e un volano per l'economia locale. Il pesce azzurro e oggi parliamo della regina che è l'acciuga. E per finire la nostra agricoltura estiva nel nostro comprensorio? Beh, la agricoltura estiva nel nostro comprensorio come volete capire adesso sta soffrendo, indubbiamente senza l'acqua è un momento difficilissimo. Il foraggio abbiamo un calo del 20-30% della produzione e di conseguenza anche sul problema sia degli oliveti ed in particolare ora poi si starà anche ripercuotendo sui vigneti. E questo è un grosso problema, speriamo che vengano delle piogge, però quanto pare la settimana prossima dovrebbero arrivare, però speriamo che non siano violenti, che non diano danni al raccolto che dovrebbe essere buono. Ma che cos'è che non vi unisce voi due? La differenza di posizioni politiche, ma anche lui è della costa e io sono dell'entroterra, quindi per il resto siamo divisi ma rispettosi delle posizioni l'un dell'altro, ecco questo è l'obiettivo. La prima cosa che ci divide purtroppo è l'età, ma questo lo dico purtroppo, poi Gero io sono della costa e lui è dell'entroterra, abbiamo idee politiche direi totalmente diverse ma rispettose una dell'altra e spero che ci unisca qualcosa anche. Ecco puntiamo adesso a parte gli scarsi, di fronte ai problemi non si può trovare un accordo comune. Intanto l'amore per la nostra terra che deve essere profondo e sincero, questo me lo auguro che ci sia sinceramente e penso per quanto lo conosco che ci sia sicuramente anche da parte del mio amico Garibaldi. Sì, sì, ora le differenze politiche si eliminano quando si lavora insieme per il bene comune, quindi quando c'è da lavorare insieme non c'è colore politico e l'obiettivo è quello, l'amore per la nostra terra è il fatto che si lavori insieme per farla crescere. Che cos'è un problema che potete, che ritenete importante per il nostro comprensorio e che insieme potete dare una mano? Ci sono tanti problemi, comunque soprattutto l'unità del comprensorio penso che sia alla base di tutto perché il Tiguglio, che piace o che non piace, a me piace, è una realtà unica. Tiguglio è parte evidentemente anche entroterra e anche parte montana, è una realtà unica che però per far valere anche i propri legittimi diritti deve lavorare insieme, deve lavorare unito perché siamo circa 200.000 persone, quindi è una piccola realtà. A noi sembra grande ma è una piccola realtà, quindi dobbiamo lavorare insieme, questo è un dato di fatto alla base di tutto. Sì, quello è anche il fatto che dobbiamo lavorare come forze politiche, sindacali e anche del progetto organismo civile perché nel nostro territorio sta emergendo un distacco tra le istituzioni e i cittadini, è molto forte. Anche ci preoccupano alcuni segnali di presenza di economia illegale su cui la politica deve fare la propria parte, deve avere una soglia d'attenzione molto forte. Quindi questo è uno degli obiettivi su cui penso dovremo lavorare insieme. Anche perché i cittadini in effetti, come diceva Garibaldi, questi partiti sembra che perdono un po' di tradizione nella storia. Questo lo dico, mi spiace molto ed è molto grave, ma purtroppo è una colpa dei partiti, devono recuperare credibilità e per recuperare credibilità devono ovviamente dotarsi di un personale politico all'altezza della situazione, soprattutto dal punto di vista delle capacità, ma altrettanto dal punto di vista morale. E questo purtroppo prima era un qualcosa che sembrava normale, adesso non è più normale e la questione morale riprende ad avere una influenza incisiva e importante per i cittadini. I cittadini devono potersi rispecchiare, devono poter dire magari ha fatto bene e ha fatto male perché credo che errori ne possono fare tutti, ma l'ha fatta in buona fede e senza interessi di tipo particolare. Ecco, prima dei saluti, oggi è un momento di unità qua, al Bagnon arriva. Sì, ora, il Bagnon unisce, è una delle caratteristiche che si è sempre considerate, quindi il fatto di vederci qui tutte le volte a raccontare una storia, una tradizione che guarda al futuro è la cosa migliore, per cui l'auspicio è che quello che noi diciamo oggi di lavorare insieme poi si produca nel corso dell'anno e quindi cerchiamo di fare per il nostro meglio il lavoro che siamo chiamati a fare. Allora, Bagnasco, salutiamo, auguriamo buon pranzo e allora mi raccomando, cercate per il bene comune che si palla a spetto. E finisco con Forzentella, dai. Forzentella, va bene. Presente anche il consorzio alla Sagra del Bagnon? Presente come tutti gli anni, anche perché nostra è una piccola comunità e è anche bello ritrovarsi al di là delle giornate lavorative quotidiane, anche in occasioni un po' diverse. È una tradizione che va avanti da 57 anni questa. Sì, io 57 anni fa non c'ero, però gli ultimi 7-8 li ho fatti volentieri. Qualche novità del consorzio, Maurizio? Qualche novità, diciamo che continua un periodo abbastanza, non dico eccelso, ma positivo per la fabbrica dove riusciamo a tenere il lavoro, a incrementarlo anche un pochino, questo è importante. Dunque è una notizia positiva. Sì, sì, lo è. In ferie ci andate? Se ne parla poi fra un po', credo dopo la metà di agosto. Riuscite a fare il giro tutti, sì? Sì, sì, sì. Adesso le cooperative sono tante. Eh, sono, sì, sono tante, sono in una quarantina, insomma, ecco. Disloccate non solo dalle nostre parti. Disloccate sulla riviera e dentro terra, sì. Bene, allora ti lasciamo a degustare le acciughe. Grazie, ciao. Ciao. Si può dare di più perché dentro di noi si può dare di più senza essere eroi. Come pare non so, non lo sai neanche tu, ma dicendo se può dare di più.